Ciao ragazze, buongiorno e benvenute a questo nuovo vlog Ho acceso la luce, non è una giornata molto soleggiata Cioè è una bella giornata, però non proprio di quelle bellissime Amori, ciao, saluta a tutti Ciao amore, e lei se ne scappa come al solito Comunque, non dirò mai più Ah che bellissimo sole a Napoli, fa caldo, ci sta bene, ci mettiamo in costume No, perché poi praticamente mi avete fatto notare nei commenti Che tipo il giorno dopo il diluvio universale, freddo, nebbia, pioggia Quindi, no nebbia, neve, sono arrivato Quindi, no, la neve a Napoli è ancora una fatta In quale parte d'Italia ha fatto la neve? Ma che nebbia la neve? Fatemi sapere Lei trema Amore, ma perché tremi a mammina? Poi ti metto il vestitino e te lo togli Perché tremi? Comunque ragazze Oggi è una bellissima giornata Avevo pensato di farvi vedere Un po' del dettaglio Qualcosina per la palestra Perché voi me lo chiedete sempre Quindi vi voglio far vedere un pochino Del mio allenamento Un po' come faccio il pre-workout Insomma, tutte queste cose qua Perché sapete che sto ottenendo tantissimi benefici Dal mio allenamento, al mio piano alimentare, eccetera Poi voi fatemi sapere se vi può interessare Vi faccio proprio un altro video, proprio specifico In cui mostro tutto il mio allenamento, tutto il mio piano alimentare, eccetera Perché come sapete non ho segreti Con voi Comunque adesso mi vado a preparare Una ricetta buonissima Ho già preparato tutti gli ingredienti qua E faccio un buonissimo tortino Approfitto per farvi vedere La ricetta, diciamo, aggiornata Del tortino Questo qua, diciamo, tipo mug cake Che si fa Potete farlo Adesso vi dirò Sia nel microonde che nel forno Ed è buonissimo Perfetto sia per colazione che per merenda Buono, buono, buono Light, ovviamente Healthy, caldita style Light, healthy, fit Va bene, ragazzi Io mi metto all'opera Adesso registro la ricetta E la pubblico in contemporanea a questo vlog Sul mio secondo canale Quindi proprio Se volete vedere proprio Tutti i procedimenti Gli ingredienti Vi lascio il link Cliccabile O nella scheda Qua da qualche parte O nelle box informazioni Se no Andate sul mio secondo canale E là trovate tutte le mie ricette Quindi troverete anche questa qua Lo carico O il giorno primo O il giorno stesso Quindi sicuramente Comunque già c'è online Perché caldita Penso a tutto Io penso a tutto Va bene C'ho fame Perché Questo è l'effetto Quando ti manca Il cibo Ehi fame Sì Ciao E sta uscendo il sole A mamma Guarda Che bella giornata di sole Che bello Che bello C'è che bello Il sole Yeah Sole Grazie di esserci Anche oggi Mi illumino di mezzo Ragazzi Domani Neve Io ve lo dico Quando Calida fa il vlog E dice che c'è un sole Che spacca le pietre Cioè mi spoglio Mi metto in costume E domani neve Ciao Ragazzi Questa è la specialità Che è venuta fuori Andate a vedere La video ricetta Sul mio secondo canale È troppo food porn Buonissimo Oh mio dio Food porn Yes Ragazzi Poi mi bevo Anche questo qua Pure detox Di Natural Mojo Che mi sto trovando Benissimo Questo qua Pure detox Di Natural Mojo E lo sto bevendo Praticamente tutti i giorni Perché è super Serve per depurarvi E purificarvi Quindi dopo I cedoni Le abbuffate Ma soprattutto dopo L'epifaria Che tutte le feste Porta via Però non si porta via La pancia E chili di troppo Vabbè comunque Questo praticamente È il nuovo Di Natural Mojo Pure detox E lo potete comprare Sul sito Natural Mojo Vi lascio il link Nella box Informazione Mi raccomando Utilizzate Il mio codice sconto Lo scrivo qua In sovraimpressione Utilizzatelo al momento Dell'acquisto Così avete lo sconto Del 20% Quindi che non è poco Ed è buonissimo Questo Mi sta aiutando tantissimo Aiuta a sgonfiare La pancia La pancia fatta Infatti tanti Nei commenti Mi avete proprio Chiesto nei commenti Un consiglio Su questo prodotto Vi dico che è buono Ragazzi Funziona Per sgonfiare la pancia Per eliminare Liquidi in eccesso Quindi proprio in questo Periodo dell'anno Va benissimo Considerate che contiene Dentro Tutti ingredienti Naturalissimi Quindi è ottimo Poi contiene Molti ingredienti Che servono Proprio per depurarvi E per eliminare Liquidi in eccesso Come lo zenzero Il succo di limone Voi lo sapete Il strato di rasano Di genipro Dente di limone Di curcuma Ed è completamente Naturale Quindi è anche Un buonissimo sapore Tutto naturale Ovviamente Se non me ne parlerei E consigliate di provarlo Per 28 giorni Io comunque Lo sto provando Già da un paio di settimane E mi piace tantissimo Ed è buono Allora Vi consiglio di berlo O la mattina O il pomeriggio Quando Comunque una volta A giorno almeno È veramente ottimo Soprattutto anche se vi allenate Comunque Anche quando uno si allena Molto spesso C'è comunque La ritenzione nitrica Non va via Con l'allenamento Quindi c'è bisogno Oltre a bere tanta acqua Eccetera Anche di qualche prodotto Tipo questo Che contiene ingredienti naturali Che hanno proprio Un'azione mirata Sui liquidi in eccesso Proprio per depurare Detox Questa è una cura Detox Quindi bevete questo ogni giorno Io lo preparo così Nella brocchetta Ci metto 7 grammi di polvere E 200 di acqua Semplicissimo Ecco qua Pessa l'acqua sopra È proprio C'è Molto semplice Poi mescolate Si scioglie subito È cosa importante Vedete Diventa tutto verde Proprio perché è detox Però ha un buon sapore Buonissimo Sa di Di frutta Di verdura Però è buono Non ha un sapore Prodominante È molto buono Ha un sapore Molto rinfrescante Molto dissetante È buonissimo Dentro ha proprio La consistenza Di una torta È fantastico È buonissimo Potete anche Inzupparlo Nel latte Tipo così Mamma mia Che meraviglia Che meraviglia Lidl Lidl Siamo venuti da Lidl Nel si Siamo venuti da Lidl Per fare un vlog Vlog ha super messato Erano tipo di completini Sportivi a Lidl Sportivi a Lidl Ho visto il volantino Quindi volevo vedere Se trovo qualcosa E poi le nostre solite cose Comunque Non lo registro In questo canale Il video Ma sul nostro Secondo canale Caricheremo il video Sesso oggi o domani Insomma Il vlog Proprio dentro Quindi ci vediamo Di là Sul secondo canale Missione Confiuta Da Lidl Dopo tutto quello Che abbiamo mangiato Perché se vedrete Il vlog Domani Sul secondo canale Abbiamo mangiato Tantissime cose Proprio nel suo mercato Adesso voglio provare questi Con la pancetta Ne voglio pure uno Cipolla e pancetta No vabbè Come si fa a ridistere Prendetene e mangiatene tutti Oh Oh Ho fatto Ho fatto la busta Sono praticamente esplosi Ho fatto tipo lo sfumato Mmm Come è uno? Si sente più la cipolla Che la pancetta La pancetta Non ci sento proprio Vogliamo più pancetta Amore ma mi sa che è arrivato Il momento di buttarlo Questo coso Cioè questo era il cuscinetto Di pupi Amore e guarda Adesso Cioè praticamente Tutta la lovatta Che c'è là dentro Aspetta Non c'è più Ed è diventata Una pellecchia schifosa Io penso che lo dobbiamo buttare Non ci piace Dammelo Lo butto Lo butto Lo butto Si Mia mamma Quando è venuta Si è scordata Queste cose Guardate che belle Praticamente Questi li fa lei Sono degli anelli Guardate com'è bello Questo è tutto Di Sbaroschi Lo fa lei Mia mamma È bravissima E poi Questa è un altro anello Sono due anelli Bellissimi E super originali Guardate che bello Cioè è troppo bello Adesso me li frego Sono troppo belli Mamma non li avrai più Sono belli Dai Non con questo smalto Però sono carini E molto molto belli Quale mi tengo Magari uno me lo tengo E uno glielo do Sono belli Secondo me questo bianco È bello proprio Mi tengo questo bianco Brava mamma Che fai tutte queste cose artistiche Lei poi è tanto contenta Quando voi le dite Com'è brava tua mamma Scegliendo le patatine Per il nostro video pazzo Due video pazzi Dove ne Quando ne ho vissuto Con la tuta Per comprare le patatine Bacon 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 Ma però dobbiamo prendere Proprio pazze Bacon Ah questa extra Deve più Poi Queste papi Ma sono stile Due chili Chili Ci sono più Cipolla Queste sono Questo cipolla No Cipolla no Cipolla no Cipolla 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 Vediamo cosa più Dai cosa ancora più Dai Questa cipolla No 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 Lanzingara Patatino 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 Sono più La nuova per noi Ma le vediamo Queste cocco e cucuma Le nuove Vai E poi c'erano anche altre nuove Aspetta Quelle altre nuove No Cocco e cucuma No Corre il zengelo Dai prendi Questo cipolla Vai Corre il zengelo Eeeh Guarda l'angelo Non prende il male a l'angelo Vai Siamo solo a 15 Ci vado a dire Ok Stanno Vinegar Barbecue Black pepper Già l'abbiamo preso Vieni vinegar 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 Aceto Vai vieni 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 Light no Che dobbiamo fare Light no Se ne vogliamo ingrassare Che dobbiamo fare No no E che è Ci sono E queste pomodori olive Troppo sane Un po' di pancetta Ci sono una pancetta Ah non c'è Pannaggia Guarda queste Guarda queste Guarda Pure queste Sono solo 15 buste di paladine Dai che ce lo sconti Arriviamo a 20 Risparmiamo Ancora Che cacchio Non ti passano Non ti passano Non c'è qualcosa di strano Ancora Ah Un altro corridoio Aspetta barbecue Aspetta che ci sono queste Quali Queste Ragazzi mi sembrano Drogati Vediamo i Fonzi 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 O i Puff I Dixie Quali Queste Queste Schifo Queste Queste qua Ben con No I Puff I Puff I Puff So bui Dai Puff Dai L'effetto Delle patatine Su di noi Ancora Non ci siamo mangiate Figurati dopo Patatine Patatine Basta Andiamo fino alla cassa Così La gente che ci guarda Noi sottilevamo il suo mercato No No Che cacciao Vai Yeah Patatine Yeah Dove faccio Oh 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 No Ma Ma Di come vengono Tutti quanti Alla festa No Non è Alla festa Per la gym ragazze C'è questa felpa che poi toglierò in palestra Ho messo i leggings C'ho qua appese Non c'avevo le mollettine Perché dopo mi devo mettere nei capelli Poi ho messo praticamente questi qua Che mi tengono più calda Sulle gambe Poi durante l'allenamento Tipo mi straccio addosso Perché vado in per Mi surriscaldo insomma Dai andiamo Forza Ma comunque Oltre a quello Che bevo Quella di natural mojo Che è buonissimo Non dimentichiamo Anche l'acqua Io bevo Tutta la bottiglia d'acqua Quindi è importantissimo Andiamo ad allenarci Come avete visto Ho fatto appena riscaldamento Solo con la bike Sono già distrutta Adesso devo fare addome E poi gambe Vi faccio vedere qualcosina Poi se volete il video completo Ditemelo nei commenti Che ve lo faccio Guardate come sono fashion Con questa mollettina Dite la verità Sono troppo fashion You belong to me I belong to you Fire from my heart Burning just for you When you're far away I'm in love with you Feelings are so high What can I do? Do it like you do it Like you high Like you do it Like you fly Like me do it Like a woman Fly like you do it Like you high Like you do it Like you try Like you do it Like a woman Go Per cena mi sono preparata Riso, riso Tanto riso Di tutti i tipi Con questo giallo Eccolo zafferano E questo è semplice Con un po' di salsa di suoi e pepe Una bella fettura di salmone Zucchine in padella E anche un po' di pesce Di questa orata sfilettata Che mi ha portato mio padre Con insalata E adesso vado a condire Con olio, limone E un po' di salsa di suoi Agucca e bapore Buon appetito Ragazzi Perdonatemi se vi saluto Proprio subitissimo stasera Ma sto veramente Morendo di sonno E tra l'altro Mi è finita la bombola E sto anche morendo di freddo Voglio subito montare il vlog E andare a dormire Quindi non ci sarà Il momento musica Il momento cantato Karaoke con Carlita Che so che vi piace tanto E che non aspettate altro Ovviamente sto scherzando Però spero che questo video vi sia piaciuto Abbiamo anche comprato Tutte quelle cose Per fare Il video delle schifezze Fra virgolette Che dobbiamo caricare Io e Nancy E se vi è piaciuto questo vlog Lasciatevi un like Io vi mando un bacio grande Vi auguro la buona notte Ciao Sto già nel mondo dei sogni Ciao Ciao Ciao